Sulla autonomia differenziata di Calderoli, lei si è sempre battuto contro la riforma del ministro leghista, ma ci dice il motivo principale per cui è un danno soprattutto per il sud questa riforma? Noi veniamo da una situazione che è testimoniata e certificata da ultimo datore di Svimez di ritardi, purtroppo, diseguaglianze che esistono in un pezzo interno del paese che è il mezzogiorno rispetto al resto d'Italia. Dovremmo lavorare anche e soprattutto attraverso le risorse del PNRR, quelle degli FSC, risorse da oltre 20 miliardi di euro che Fitto continua a bloccare nell'erogazione delle regioni per ridurre queste distanze e diseguaglianze, aumentando i servizi e le opportunità per i cittadini del sud rispetto ad altre aree del paese. Il governo fa l'esatto opposto, blocca il PNRR, non eroga i fondi FSC alle regioni e propone un progetto di autonomia differenziata che sarebbe devastante perché si fonda su un principio che loro immaginano di portare avanti e cristallizzare, quello della spesa storica. Non immagino di superare questo criterio definendo in via prioritaria, come noi stiamo chiedendo, i livelli essenziali delle prestazioni, cioè quei livelli minimi che devono essere garantiti in ogni area del paese sui diritti civili e sociali che ogni cittadino dovrebbe avere garantiti da Milano a Reggio Calabria. Hanno insediato un comitato composto da decine di persone, peraltro con delle defezioni maturate nelle ultime settimane, proprio in conflitto con la linea di un governo che sembra invece voler insabbiare quello che per noi è un elemento qualificante, definire questi livelli essenziali delle prestazioni, farlo coinvolgendo il Parlamento che invece nella bozza Calderoli ha un ruolo puramente marginale e poi evitare ogni rischio di ipotesi di residuo fiscale. C'è la possibilità che invece la Lega, il governo e la destra immaginano di poter destinare parte della tassazione percepita in alcuni territori, in quelle regioni, ovviamente avvantaggiando le regioni che già hanno di più e dando sempre di meno alle regioni che hanno di meno. Quindi sarebbe davvero un progetto devastante perché ridurrebbe sempre più al mezzogiorno le risorse per la sanità, per la scuola, per il trasporto pubblico locale, per i servizi sociali essenziali alle persone, per il welfare e davvero non possiamo tollerarlo perché si arriverebbe davvero a spaccare l'Italia in conflitto con la Costituzione che invece parla di dovere di rispettare l'unità e la coesione nazionale, cosa che la destra non ha assolutamente a cuore.